Vai dentro lì, scendi qua, cliccandino, destra... Parti da lì che sei fermo, non riesci a prendere la velocità... Ah, devi essere giusto, eh! È arrivato perfetto! Devi arrivare... Vedi comunque... Guarda come viene su... Ah, ho capito, ma facciamo l'italiano... Questo qua era uno dei passaggi di inizio zona, una roba del genere... Quando mi diceva vai a prendermi, era alto tre volte... Guarda che lo fa anche il cifo, via, spampi! Via, via che lo fa anche lui! Dio Dio che ti ammazza! Il problema è che lui ti ammazza! No, è più facile che ci ammazzano i due che siamo di qua... Infatti devi sempre stare in piedi, perché se sei seduto... è il rischio che ti passa sopra, perché non fa in tempo spostarti... E' da fare così! E' da fare così! Così è giù, devi la differenza! Che noi andiamo su di muso, giusto a scuola! Andiamo a seconda che non potevano, la prima si poteva! E' il sasso? Ha fatto il sasso adesso, eh! Come c'èo? Io vado a casa! Ciao! Sei sicuro? Ciao a tutti! Ciao Marco! Vai Michi! Ehm... Sì! C'è cosa che se faccia? È questo! Si, vi facciam continuo! Ma sono qui vogliavo andare al roma! Quindi, è giusto! C'è! Si, devi essere giusto! Ci sono per la stanza! Porciamiam ci un certo! C'è, sì! Oggi mi fanno, un certo, un certo, un certo, un certo in modo a scuola! No, non è più per la qualità! Lo che è certo! T'ha detto che i roma invece sono di trasferta, da qui! E' il perfetto! E' la cosa da qui per la scuola a scuola a scuola a scuola! va bene va bene così dai finiscila finiscila guarda vai così così si eh micchi veri eh cioè ha paura ma vai e ri su ormai dritto chicco devi fare questo che lo so già che dopo mi viene addosso a me un po' limite eh però una volta che hai fatto la velocità di lì come hai fatto il sasso di là sasso veloce poi continua a non fermarti minchia che arrivi no è che giri sul sasso se ti scivola fuori cazzo vedi c'è così eh c'è così eh perché prima è atterrato già là chicco chicco no ma deve atterrare il davanti devi averlo già là eh se chiudi prima quel secondo ti scappa fuori eh bravo devi devi continuarla e fermarla come hai fatto prima per sforza e anche il sasso che magari adesso scivola eh e poi dai adesso però lo muochi quello lì beh dai però un po' a terrimoto sentiva eh grazie un po' che non toglie più l'erba tagliate tagliate no cazzo qui così se va avanti così non piace prendere più c'è mica come girare eh senza venire qua c'è mica come girare se quest'anno continuano a girare si sarà meno